Dance Crew Selecta è il nuovo talent firmato Jean-Marie Etienne, che darà vita ad uno show originale. Protagonisti 40 ballerini che si sfideranno in tv per ottenere un posto nel corpo di ballo che parteciperà alla tournée estiva del Festival Show 2012. È quindi una grande occasione per tutti i ballerini di Treviso e non solo. Fino al 17 aprile, infatti, è possibile presentare sul web il proprio video e poi registrarsi sul sito. Per la finalissima, che si terrà l'11 maggio a Jesolo, si prevedono grandi ospiti nazionali ed internazionali. Un'opportunità davvero unica nel territorio trevigiano per poter entrare nel mondo dello spettacolo e ballare nelle piazze più belle del nord Italia. Etienne, un ballerino di fama mondiale, come nasce il progetto Dance Crew Selecta? Semplicemente dando spazio ai giovani e creando uno stimolo molto bello e ballare sul palco davanti a 30.000 persone e quindi formare una bellissima esperienza per un giovane. Quindi, largo ai giovani quest'anno per il Festival Show 2012? Assolutamente l'essenziale perché hanno la vitalità giusta per dare comunque una bellissima energia sul palco. La tua carriera come prosegue dopo questa tournée estiva? Continua con tutte le importanti relazioni con lo spettacolo. Adesso esce fuori un film il 17 aprile in America e da lì comunque ci sono tutte le varie collaborazioni con i cantanti, le trasmissioni e quello che comunque faccio tutti i giorni insomma.